ok ragazzi eccoci con gini world ride di nuovo che vengono riuscirci a fare questa gara di zero per cento di valutazione devo riuscirci per forza che se non ci riesco non sono nessuno quindi ecco quella nostra bella lamborghini che poi lamborghini non è ok vediamo subito la pasta del benissimo ok Qu'è? Voi sali! Sì.. Voi lascia! Sì.. Sì... Sì.. Calma! Sì. Sì... Sì.. Sì... Ok, sali! Sì... 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 piano 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 lezzo intorno Piano lezzo intorno Il Lamborghini Ok vai Lamborghini Por por Lamborghini Il bello è che poi salta E là ti fa sbandare Ancora lui Ancora lei Se intorno Se intorno Ragazzi se intorno Se intorno Dai ragazzi sono quasi Ragazzi sono quasi Ragazzi sono quasi Ragazzi sono quasi Sì Ragazzi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta La gui tv L'ho ancora Dovrò venire Oddio E che cazzo ho fatto E la madonna Ok Andiamo all'altro Shakepoint Ok 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 vedrai come cazzo Scendo Ciao 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 Eccolo le carte, che dovrebbe fare il loop, eccolo, eccolo. Sì, cazzo, abbiamo vinto. Non so se mi si è filmato, che cazzo sto facendo. Ok, eccoci qua. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ecco qua. Guarda, per quante volte ho sclerato, quante volte ho sclerato, caro, non sapete quante volte. L'ho aspettato questo momento. La verità è intorno, modificata. Per riuscire a farlo. Fortunatamente è un giro. Non ho messo due ciri come quella tolta ed ero pazzo all'epoca perché i tuoi ciri. Questa cosa che non ci riesca neanche ora. Qualcosa schifo, io ce la faccio il meno ora. Guardate qua, sbando i... Ho preso uno. Ho preso. Ma che ha mattato il circuito. Eccolo. Dritti! Mi ricordo troppo bene come cazzo sclerato di questa cara. E chissà perché, da rial... No, 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 la prima volta che ce la faccio. La prima volta, la prima volta, la prima volta. Mi ricordo quella tolta che ci ho fatto in un'ora. La prima volta in sei minuti, quasi. In sei minuti, quasi. Ok, ragazzi. E' un po' finire qua. Se vi è piaciuto, commentate, condividete. Lasciate ben cinque like per il prossimo episodio. Questa da Silvestre è tutto. Ciao.